Come sempre ogni giorno ci vediamo Aspettiamo un po' che si connettono le persone Mi sa che mi sta nascendo un brufolo qua sul naso I wanna rock and roll all night And party every day I wanna rock and roll all night Mattia, come andiamo? Sempre lì Ciao Nicola, come andiamo? Aspettiamo un po' che si connetta la gente Facciamo cagate Aurelio Bella zio Grande Aurelio Come stai? Tutto a posto? Io sto come sempre sperimentando con i filtri Ah beh questo è fantastico Mettiamo questo? Ma che cazzo ci frega Mi sa che mi sta merendo un brufolo sul naso tra l'altro Sarà bellissimo Giovanni Sì, sì Come andiamo? La combriccola si sta riunendo Che bello il suo sfondo sfocato con i cuori Cioè quasi 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 divento romantico Sì Aurelio Se hai provato a chiamarmi Devi sapere una cosa di me Non rispondo quasi mai al telefono O comunque è lontano O non posso rispondere Quindi è molto più facile trovarmi su whatsapp Ciao piede Il sommo sei tu Il sommo sei tu piede Piede tra l'altro come ti chiami di nome? Se si può dire Strategie per il benessere Mi piace molto L'immagine del profilo Di Strategie per il benessere Benvenuti ragazzi Quanto mi diverte fare i live Voi veramente non avete idea Beh Avete pensato un po' a quello che ho detto ieri? Come siete rimasti? Oggi avete provato Che ne so A fare qualcosa di diverso Oppure avete visto una Una bella fanciulla E avete detto Ma quasi quasi mi butto Quasi quasi la figura di merda la faccio Eh lo vedi Buon gustaglio Allora Invece di piede ti chiamerò Ale Se per te va bene Vai tra Tutto fa brodo Tutto fa brodo Va benissimo Ciao Leo Come va? Allora Vi è capitato qualcosa Tra ieri ed oggi? Oggi Almeno a Bari In una bella giornata O quasi C'è comunque un vento freddo incredibile Cioè È un mese almeno Che c'è un vento freddo fastidiosissimo Da noi Ok meglio Ale Meglio Perfetto Dai Fatemi Fatemi capire un po' Come stanno andando le cose Qual è il problema Che continuate ad avere costantemente Che dite proprio Porca puttana Che palle Sembra quello Non riesco a superarlo Leo Leo come va a te? A te come sta andando? Ah ho visto il film Dei Motley Crew Figata Vabbè specialmente all'inizio Insomma Se vi capita su Netflix Guardatevi il film Dei Motley Crew Che è abbastanza pesante Ciao Simo Come stai? T'ha a posto? Qua pian piano Stanno connettendo le persone Simo Qual è Qual è un problema Su cui continui a sbattere la testa E che non riesci a superare? Magari Lo affrontiamo Vi piacciono Sti cuori Sti cuori Che vanno Che vanno E vengono Quanto mi fanno flippare I filtri Che poi Se faccio così No Ok Non vorrei interrompere La diretta Beh ragazzi Sono qui Tutto per voi Queste dirette Le faccio solo per voi Quindi Voglio che voi Mi facciate domande Che non state lì A fare gli spettatori Ale dice A me ora Come ora Le cose vanno bene Però una domanda Da chiederti Ci sono delle ragazze In palestra Che mi attirano un po' A chi non attirano Quelli in palestra Pari Every day Ma ho paura A farmi avanti Magari presentandomi Perché con un rifiuto Rischio di fare Una figura di merda Vedendole spesso Ok Allora guarda Io E ve ne sarete accorti Non sono Dell'idea Appunto Facciamo colpo Facciamo le cose Facciamo le cose Spettacolari No Facciamo ridere Facciamo Facciamo i brillanti Soprattutto Perché Non serve un cazzo Se scopate Scopate Nonostante quello In più Probabilmente È anche Controproducente Perché io Quando vedo Come dicevo ieri Da ragazza Se io sono una ragazza Quando vedo uno Che cazzo Minchia Ce le ha tutte Cioè È alto Bello Simpatico Divertente Intelligente Ricco Ce le ha tutte lui Ma col cazzo Che le la do subito Cioè io penso Ah Materiale da fidanzamento E allora Facciamolo aspettare Vediamo Quanto ci tiene Vediamo quanto Un figo così Diciamo Combatte un po' No È Molto diverso Invece da quando Uno è semplicemente Sexy È un po' Uno sbandato Un disadattato Vi ricordo appunto Vi ripeto Di vedere il film Dei moti Specialmente La prima parte E basta E si propone Sessualmente E lì Paradossalmente La curva Delle probabilità Che succeda qualcosa Aumenta Molto di più Molto di più Di quando ce l'hai Tutte tu Sei tutto perfetto Sei bello Ricco C'hai la laurea Sei intelligente C'hai la macchina Minchia Con questo Mi ci fidanzo Se non mi ci sposo Quindi Quindi non fatevi Troppi Troppi problemi Ad essere super Perfetti Perché non serve E addirittura È deleterio Quindi questo Per dire cosa Che appunto Fare colpo Essere super fighi Imbucarle tutte Tipo se fossimo A biliardo Con un colpo Le imbuchi tutte Sei super campione Super figo Sai esattamente Cosa dire Cosa fare A quel punto Non scopi In realtà Non scopi Perché Perché devi mantenere Sempre Quella Quel livello Di performance Perché tu Non credi Di essere così Se sei così Appunto È un problema Nel senso Che dici Cazzo Ma te l'hai di fidanzamento La ragazza dice Facciamolo aspettare Se non sei così Ancora peggio Perché Magari fai colpo Magari ci riesci Però pensi Porca puttana Io faccio cagare Però sto fingendo Sta funzionando Non smetterò mai E quindi vai avanti A farti venire Varie malattie Psicosomatiche Per fingere 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 E non smettere Mai di fingere È un inferno Da cui Sono passato Moltissimi Sono passati Specialmente Se Hanno cominciato Dalla seduzione Americana Come il sottoscritto Io ripeto sempre Che da lì vengo Poi dopodiché Mi guardo intorno Mi faccio due domande Specialmente Sulla situazione italiana Che è un po' diversa Da quella americana E da lì Insomma Elaboro Un mio pensiero Cosa che È un po' Raro Che Che altri siti Di seduzione Specialmente italiani Facciano Cioè Generalmente Prendono le cose Americane E le risputano In italiano Anche magari Traducendole male Capite Che si vede Che hanno usato Google Translate Vabbè Quindi per tornare Al fatto Delle ragazze In palestra Tu ovviamente Sei in palestra Stai pensando Minchia Questa qua È figa Ovviamente Devo dire qualcosa Di interessante Devo fare colpo Devo farla ridere subito La prima cosa Che pensi Quando vedi Una ragazza In palestra Beh Per approcciarla Per parlare Devo farla ridere Devo essere super brillante Super figo Anche perché Intorno a me Ci sono tutti I super fighi Quello alto Quello palestrato Quello figo Quello E io dove cazzo vado Invece Sarà proprio il fatto Che non lo sei Super figo Ad aprirti La porta del paradiso Perché Perché Le ragazze Che non sono stupide Sono consapevoli Che tutti I super fighi Soprattutto Stanno tentando Di far colpo Se sei tutto Super pompato E super fashion In palestra Cosa stai facendo Non stai cercando Di far colpo Cioè perché dovresti Che ne so Farti le sopracciglia Ad ali di gabbiano E metterti le ciglia Finte da uomo Il mascara Quando vai in palestra O metterti L'ultima Collezione Di under armor E stare Cinque ore In palestra Per scolpire Il tuo bicipite Fino all'ultimo Millimetro Se non per far colpo Allora Le ragazze Sono Molto Diffidenti Proprio nei confronti Di questo genere Di persone Super fighe O che tentano Di fare I super fighi Come fanno? Generalmente Fanno i brillanti Fanno le battute Fanno Appena La ragazza Percepisce Appunto Questo atteggiamento E Sente Come Come Avete presente Avete presente Il fantasma Dei ghostbusters Slimer Sente Come se Slimer Gli si fosse Appiccicato Addosso Capito? Invece Se tu Non fai Il brillante E sei una persona Normale Cioè Fai anche Il serio Il serio Magari con la faccia Da serial killer Tipo Lo stai usando Questo attrezzo Ovviamente Farebbe un po' Di paura Ma farebbe Paura anche a me Che sono maschio Ho capito Però se tu La approcci Una ragazza in palestra Dicendo Puttanate Cioè Sai a che ora Chiude qua Perché che ne so È la seconda o terza volta Che vai O comunque Magari non te lo sei mai chiesto E quella sera È tardi È tardi E non ti sei mai chiesto Ti giri Vedi una ragazza Che sta facendo Un esercizio È la ragazza Più vicina E dici Scusa Ti ricordi a che ora Chiude qua Boom Hai cominciato La conversazione Incredibile Pazzesco Pazzesco È Se la ragazza Le va di conversare Continuerà la conversazione Se non le va Continuerà a fare i pesi E non sei tu Che lo decidi Anche se sei figo Anche se sei l'ultima routine Anche se sei Che Se sai Le cose perfette da dire Che ti hanno detto I siti americani Puoi andare da una Essere perfetto Dire tutto perfettamente Un secondo che Fa caldo Dire tutto perfetto Che mi sto scaldando E queste cose a me Fanno scaldare Dire tutto perfettamente Tutto alla grande Tutto da manuale E poi la ragazza Comunque Continua Il suo esercizio E la conversazione muore E tu dici Porca puttana Così ho sbagliato Niente Non hai sbagliato niente Devi accettare Che Una ragazza Ti dica sì E una no Una ragazza Ci stia A conversare con te E una no Una ragazza sì Una ragazza no Così va la vita Ti rende uomo Il fatto che rischi Ti rende uomo Il fatto che Accetti Che una ti possa dire sì E una ti possa dire no Ti rende uomo Il fatto di farlo E provarci Dopodiché Sei figo Sia che ti dica sì Sia che ti dica no Ma devi accettare Che ci siano Sia gli alti Sia i bassi Tra l'altro È divertente così Se fosse fin troppo facile Sarebbe addirittura Meccanico E dopodiché Perderesti interesse Continua ad essere Così interessante Approcciare tipe Sedurre tipe Anche se magari Ponga così tanto peso Ponga così tanto peso Su questa cosa Che magari ti fa essere Irrequieto Ti fa cercare di fare Per forza colpo Ti fa cercare per forza Di fare il brillante Se ogni volta Vi va di sfiga È molto probabile Che voi cerchiate Sempre di fare I brillanti Se smetti di fare Il brillante E sei banale Scusa Che ora chiude Qua la palestra Non ricordo Scusa Questo lo stai usando? Ah ok ok No vabbè No lo devo usare Dopo Credo fra dieci minuti Vabbè Grazie Ehm Qualsiasi altra cosa Ma Sai se c'è qualcuno In direzione Qualsiasi cosa Qualsiasi cosa Banale Che vi venga in mente Che tipo A dirla Uno pensa Ah che banalità È quella La cosa che funziona Perché le ragazze Sono abituate A tipi tutti Tutti brillanti Ah sì sì Ah ah Facciamo ridere Facciamo la battuta migliore E vengono così Ehm Diffidati Per il semplice fatto Che non ci si può Fidare di loro Si capisce Che non sono Banali Normali Cioè Essere umani Con cui si può Parlare E relazionarsi No Sono Delle cose Costruite Con cui Non sai nemmeno Da dove Cominciare A relazionarsi Allora Ti ho risposto Per tipo 20 minuti Penso di essere Stato abbastanza Esauriente Allora Andiamo avanti Simone Esposito Allora Diceva Da retta ad altre ragazze Quando me ne interessa una Solitamente mi focalizzo troppo Sì Allora Fai attenzione Perché questo è un problema Molto maschile Di chi Magari Ha ricevuto Un'educazione Un po' Più rigida Delle Delle altre O comunque Tiene di più All'approvazione Degli altri Ma è il 90% Degli uomini Il 90% Degli uomini Si preoccupa Di provarci Con più Ragazze Perché si sente Una merda Cioè si sente Un fottuto traditore Bastardo Non si capisce di cosa Perché l'ha sentito In tv Perché ha sentito Che sei porco Se parli Con diverse ragazze O se ci provi Con diverse ragazze Ha sentito Che non si fa E quindi non lo fa Tu però Se sei un vero uomo Cioè parte dell'essere uomo Ragazzi È rischiare E rischiare Che significa Valutare il pericolo Sprezzarlo Se è un pericolo Che non è vitale Per esempio Andare ad approcciare Non è vitale Come pericolo Perché non muori Se diciamo Non va esattamente Come vuoi O come ti aspetti Quindi quel pericolo Si può sprezzare Lo sprezzo del pericolo Peraltro È il lubrificante naturale Vaginale Più grande Che esista Al mondo Cioè il fatto Che tu vada Da sobrio Ad approcciare Che ci provi Da sobrio Anche magari Dopo poco Che le hai conosciute Quello fa bagnare Tantissimo Perché dici Porca puttana Cioè Chi è questo Nel senso Come fa ad essere Così sicuro di sé E quello è anche Mistero Carisma È tutto Così Se proprio volete Dimostrare qualcosa È così che lo fate Se ci tenete Per forza A dimostrare Le cose E quindi Insomma Non ti fare problemi A provarci Con tante ragazze Contemporaneamente Anzi È l'unico modo Per non andare sotto È per capirci qualcosa Cioè È l'unico modo Di essere se stessi Perché tu Se ci stai provando Con 5 o 6 Ce n'hai Che ne so Due conosciute In palestra Due conosciute In biblioteca Due conosciute Al parco Due conosciute Su Tinder Se proprio Vuoi usare Una cosa Tecnologica Sono in ballo Ci stai chattando È lì che C'hai la mente libera Perché capisci Quante cazzo Di ragazze Ci sono al mondo Leo Sì ci sto provando Con 3 tipe Contemporaneamente Bravissimo Una pensa Mi manderà a cagare Ma sti cazzi Questo infatti È l'atteggiamento giusto Perché Se pensi Mi manderà a cagare Sei libero Di fare E comportarti Come cazzo ti pare Ma anche banalmente Anche in maniera noiosa Il discorso che facevamo prima Anche in maniera Non brillante Se tu non sei brillante Sei fottutamente banale Cosa studi Ti piace quello che studi Lo volevi fare da bambina Queste sono 3 cose Che potete chiedere A ragazzi appena conosciute Banalissime Che vedrete Che però Faranno Durare la conversazione Ore Specialmente se poi Ci mettete anche un po' Del vostro Del tipo Sì anch'io volevo fare quello Poi però magari Ci ho ripensato Cose non brillanti Banali Banali di tutti i giorni Perché fanno andare avanti La conversazione Perché uno Ci si può relazionare Siccome è capitato Anche a lui Avrà qualcosa O a lei Avrà qualcosa Da dire A riguardo Se io parlo Solamente di paracadutismo Cioè io Che ne so Sono istruttore di paracadutismo E faccio Che ne so La mia vita è al limite Faccio 3 3 voli al giorno 3 lanci al giorno Poi guido un aereo Boh E poi Faccio base jumping E che altro Faccio arrampicata in free climbing Ogni settimana Beh Cazzo Minchia Cioè una persona sicuramente interessante Ma una persona con cui Non è possibile relazionarsi Non tutti possono relazionarsi Con una persona di questo genere Chi cazzo sei Jason Statham Da dove sei uscito Da un film d'azione Cioè Cercherò di parlare con te Di questi argomenti Ma poi Se vedo che Solo di quello Si può parlare con te E la conversazione finisce Cioè Sono molto interessato all'inizio Ti stimo Perché dico Cazzo Che persone interessanti Non tutti lo fanno Ma dopodiché Se io non mi posso relazionare Non possiamo parlare Del più e del meno Di cose banali Che ho fatto anch'io Come persona normale E non si riuscirà Ad andare avanti Nella conversazione Questa è una cosa Questa è una cosa Di una Appunto Banalità Però Di una logica Pazzesca Cioè Basta capire Basta Soffermarsi un attimo A capire Che è effettivamente così E capirete Che è così E che funziona Ma questo Ma questo non ve lo dicono E poi rimane Cioè Quello è il fatto Tu la prima o la seconda volta Lo devi fare Solo per vedere Se rimane lì E non se ne va Il no È quando lei Se ne va Non quando lei Ti dà la guancia Sorride E rimane Se ti dà la guancia Sorride E rimane Vuol dire che Ci devi riprovare Però non te lo può dire Le ragazze pregano ogni giorno Che ci sia qualcuno Che capisca Che non possono dire Queste cose Cioè Devono essere capite al volo Ciao Giordano Come va? Ho visto che Sei entrato adesso Simone Ha risposto di nuovo Piede di porco Tutta la mia palestra Sa con chi mi vedeva E che è arrivato Un 2 di pic E ci vediamo ancora Sti cazzi Vabbè Appunto Cioè Anche se magari Dovesse venire fuori Che sei uscito con quello Non è andato bene Ci sono state un paio Di 2 di pic Ma sti gran cazzi Ma siamo tutti esseri umani Sei un essere umano Sei un uomo Se tu te ne fai un problema Sarà un problema Anche per gli altri Ragazzi Sono cose Di cui ovviamente È difficile ricordarsi Perché le sentiamo Poche volte Ma sono cose Sempre vere Anche questa Cioè Se tu te ne fai un problema L'altra volta Ho fatto una storia Su Instagram Che diceva Qualunque difetto Tu abbia Se per te È un problema Lo sarà Anche per gli altri Punto Se per te Non è un problema Non lo sarà Nemmeno per gli altri Matematico Matematico Quindi se tu Sei uno Che ci prova Con tante ragazze E come è normale Che sia Anche a me In Che ne so In 10-12 anni Di carriera Fra virgolette Anche a livelli Avanzati Sempre fra virgolette Ho avuto Comunque tantissimi No E tantissimi Si E comunque Se tu ti fai I problemi Per i no Sbagliato Perché sei un uomo Proprio Come dicevamo Perché rischi Perché Accetti Sia i no Sia i sì È quello Che ti rende Un uomo Se tu ti fai I problemi Per i no Ebbè quello È un cazzo Di problema Perché se tu Ti fai il problema E non te ne fai Un vanto Di aver ricevuto Tanti no Quei no Diventeranno Un problema Anche per gli altri Perché gli altri Sentono Percepiscono Il tuo disagio Su certi argomenti E magari O Diventano un po' Irrequieti Perché sentono Che sei irrequieto O magari qualcuno Un po' più burlonetico Sfotte anche Però se io ti sfotto Su una cosa Su cui ridi anche tu E che percepisco Che non sia Un problema per te A me passa la voglia Di sfotterti Perché non c'è Nessun gusto Ho detto anche questa cosa Che nel video Sul bullismo Che feci tanto tempo fa Se io sono un bullo E ti sfotto Che ne so Sull'altezza Questa cosa Era possibile In prima persona Perché mi hanno sfottuto Per quasi tutto Il periodo scolastico Quando io me la prendevo Ci davano dentro Ovviamente Quando io ci ridevo Mi sfottevo da solo E quelli rinunciavano E dicevano Che cazzo di gusto c'è Cioè questo sta ridendo con me Basta Vado da un altro Che non ha la personalità Di O non sa Questa cosa E quindi Non può difendersi Fra virgolette Ciao Davide Ciao Andrea Com'è Andiamo Tutto a posto Ciao Juan Ciao Cristiano Ermeio Sempre Ermeio Cristiano Mattia Ci ho riprovato tre volte Non ci stava Non ci stava Ma rimaneva lì Sarà per la prossima uscita E magari Insomma Si vuole un po' Far pregare Ricordiamo sempre il fatto Che non vogliono passare Per zoccole Due sono le cose Più importanti Nella vita di una donna Il cazzo Il cazzo E non passare per zoccola Cioè non far capire Che gli piace il cazzo Due Non una Nell'altra Due insieme Il cazzo E non far capire Che gli piace il cazzo Dovete Avere un bis pensiero Dovete avere Un pensiero Che va In entrambe le direzioni Ragazzi Forse questa Diretta finirà Un po' prima Perché Fra un po' Devo andare Comunque Insomma È stato È stato È stato bello E Dario Ciao Dario Cristiano Ermeio In palestra In una cazzata Vedi È troppo naturale la cosa Io conosco tutti Solo dopo un giorno Che ci vado Comunque Grande Se dirette Supermotivante Grazie Cristiano Ad Maiora E lo vedi Cioè Cristiano Rivolgetevi a Cristiano Cioè Mandateli un messaggio In DM E chiedete Ma tu Come Come conosci tutti In palestra Vi dirà Che è una cazzata Che basta rivolgere La parola alla gente Ciao Andrea Breschi Come andiamo Lexo Ciao Lexo Alessio Ho piede di porco Per gli amici Perfetto Allora magari Tramite qualche domanda Comincio l'approccio Sarò una semplice Sarò una semplice Persona Che parla con un'altra Senza vergogna E senza farlo solo Perfetto Perfetto Alessio È esattamente così Cioè È come Che ne so Due Cagnolini No Che Prima di giocare Si devono un po' annusare Cioè Anche gli animali Fanno così Non è che subito Incominciano a A mordicchiarsi E saltarsi addosso Si annusano prima il culo Come si annusano il culo Gli esseri umani Con la conversazione banale Quella tanto vituperata Dalla seduzione americana Cioè Parlare del più e del meno Parlare di cose Con cui ci si può relazionare Che siccome sono successe anche a te Ne puoi parlare con tranquillità Senza necessariamente fare il brillante O fare battute incredibili Fare Ragionamenti da premio Nobel Cosa che poi potrete fare anche dopo Nel senso Una volta che Avete capito che c'è un attimo di Feeling Cioè Siete due persone che Quando parlano L'una Non è che capisce proprio esattamente Il contrario dell'altra Quello è un attimo di feeling Un attimo di chimica Ecco da lì Pian piano Potete vedere un po' Potete buttare l'amo E vedere se magari L'altra persona Bocca Ad argomenti Che ne so che vi piacciono Se vi piace l'astrofisica Stessa cosa Perché dovete fare i brillanti Subito E parlare della vostra Tesi in astrofisica Cioè È chiaro che mettete Un attimo Sui defensive Anche perché la persona Che vi sta davanti Dirà Cazzo Se la prima conversazione Di questo tizio È l'astrofisica Io non sono assolutamente All'altezza Cioè Sono una persona normale Stessa cosa Se la prima conversazione Di questa persona È Di un comico Incredibile Che dovrebbe stare a Zelig Cioè Mi sta facendo Scompisciare Dalle risate Lo stimo Perché dico Cazzo È una persona Molto simpatica Ma non necessariamente Mi ci posso relazionare Con questa persona Dirò Io non sono così Simpatico O simpatica Specialmente poi le ragazze Generalmente Non sono di questa simpatia Non sono Che ne so Sono gradevoli Ma non le vedi Spesso sul palco Di Zelig Capito Non sono queste Virtuose Della risata O della comicità Quindi se tu sei Super simpaticissimo Che fai ridere Tutta la palestra Non necessariamente La tipa con cui parli Vorrà continuare La cazzo di conversazione Capito Ma se ci pensate Non sto dicendo Cose logiche Cioè Questa è una cosa Che se tu esci Un attimo Dall'ipnosi Della situazione Americana Capisci immediatamente Perché la senti tua Cioè Ti sarà capitato Ciao lupacchiotto Ciao simo Grazie mille Una domanda Da farti in direct Dopo Ok Fammela Poi magari Rispondo tramite Video youtube Se è lungo Ciao Diub Ciao linda Alle piede di porco Mi stai facendo venire Una voglia pazzesca Di lasciarmi andare E non pensarci due volte Prima di conoscere qualche ragazza Ma è così ragazzi Cioè Noi viviamo In una situazione Che veramente Non è naturale Cioè La matrix è quella Cioè Noi Di base Ci verrebbe Di Rivolgersi A A quello Che hai accanto Ma che sia un uomo Che sia una donna Fare amicizia Dire quello che ci passa Per la testa Dire una cosa banale Fare due chiacchiere Quella è la cosa Che ci viene naturale Di fare Poi tramite la matrix Siccome sentiamo Ogni giorno Che non si fa Facciamo schifo Siamo dei potuti Porci Se Se lo facciamo E siamo delle persone Di merda Allora Ci facciamo violenza E diciamo No 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 Assolutamente Io non lo fari mai Cioè Quindi stai per farlo E ti stupri E non lo fai Quindi entri In una situazione Assolutamente Non naturale Alessandro Ciao Zec Come va? T'ho a posto Alla schiera E quindi insomma Ragazzi Sciallissima Sciallissima Io sono qui Veramente Per farvi Tranquillizzare Perché poi È la chiave Di tutto Capito La tranquillità Assoluta È la cosa Che apre Tutte le porte Vi è chiaro? Cambio filtro Intanto Se ci sono Delle domande Facciamo magari Gli ultimi 5-6 minuti Iridescent glitter Wow Sempre più figo Se avete Qualcos'altro Da chiedere Io sono qui Se Diciamo che Vi convince O non vi convince Quello che sto dicendo Riuscite a farlo vostro Credete che sia Che sia qualcosa di fattibile Credete che Invece No Marco Io ci ho provato E proprio non riesco a dire cose banali Non riesco ad esserlo banale Devo essere per forza Super Interessante Aspetto eh Va bene raga Allora visto che non ci sono domande Non so se qualcuno sta scrivendo Ah ok Ale sta scrivendo Ci proverò un giorno Tornerò in live In direct Parlando dei risultati Vai Voglio sapere Voglio saperle Queste cose Aggiornatemi Cazzo Ok Io sono qui Va bene È stato bello Come sempre Questa mezz'oretta Raga Mi piace troppo farla Veramente Per adesso continuiamo Con i live Ogni giorno Ogni giorno alle 7 Ci vedremo Sì Lexo Buttarsi 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 è Secondo me Proprio la chiave Della felicità Perché ti fa fare qualcosa di nuovo Quindi ti accende il cervello Quindi È come Limitless NZT Quindi Rende bello vivere Quindi tutto Cioè Io Se mai dovessi fare un figlio Ora dirò una cosa Proprio Super profonda Fra virgolette Se mai dovessi fare un figlio E sto figlio Non gli dovesse insegnare A buttarsi Cioè Quindi a vivere la vita In maniera bella E divertente Degna di essere vissuta Cioè Con gli ormoni Tali per cui Ti senti bene Non lo farei Cioè Che senso ha mettere a mondo Una Una creatura Un Pargolo Che poi Deve solo soffrire Capito Siamo qui Anche Forse Per rendere la vita Godibile Dando un senso alla vita In questo modo No Cioè Altrimenti che cazzo Nasciamo solo per soffrire No Vinca Che cosa profondissima Con cui vi lascio oggi Sì One Sulle chat Non funziona la banalità Sono assolutamente d'accordo Perché la chat Non è la realtà Cioè Tutti Gli ambienti Che Non sono reali Ma anche per esempio La discoteca Quella super Chic Non è reale Quindi la banalità Almeno A livello superficiale Ti sembra che non funzioni Cioè Hai molta più Diciamo Hai un po' di resistenza Nei confronti della banalità Perché sembra così strana Però Diciamo Anche su Tinder O in chat Non funzionerà la banalità Allora come ti ho detto Come ho detto spesso Trolla Trolla Divertiti Perché quello Non è banale Però almeno ti stai divertendo tu Ti diverti tu E non entri Nell'idea Di dover far colpo Cioè Manda una cosa strana Fai una battuta Di dark humor Davvero pessima Che io me ne andrei Io stesso me ne andrei Se qualcuno me la facesse Capito Perché se la tipa Se la tipa se ne va Vabbè Se la tipa rimane a parlare Beh Grasso che cola È fighissimo Andrea D'accordissimo Ho conosciuto un gruppo di amici e amiche Solamente accendendo un sorriso E lo vedi All'università Ragazzi Sorriso e sguardo Sono le porte del paradiso Cristiano Ermeio Troppo È proprio vero Quello che dici Io noto ogni giorno Che passa A dire la prima cosa Che ti viene in mente Sì Sì Anche perché ti rilassa E quindi rilassa Gli altri Simo Dai e bux Lexo Profondissimo Grazie Cristiano dice Io quando prendo l'autobus Approccio sempre Parlando di cose banali Ad esempio Il tempo Il tempo Gli autobus Che si rompono E beh Certo Perché Così ti possono rispondere Le ragazze Interessate a rispondere Cioè Che vogliono fare conversazione Che non gli è morto il gatto Due minuti prima E che vogliono Conoscere ragazzi E farseli Però Cioè Non devi rimanere male Se una ragazza Non è disposta A fare conversazione Sugli autobus Sul tempo Ci sta Una ti dirà sì Una sarà disposta E un'altra no Ci sta Ci sta Sei uomo Se accetti questo sì e no Questi alti e bassi E comunque ti butti lo stesso Perché così la vita Diventa degna di essere vissuta Una figata pazzesca ragazzi Sì Trollare Trollare È troppo divertente L'importante appunto È non entrare In questo cazzo di Di ciclone da cui non esci più Del far colpo Perché poi Gira gira Sto ciclone Gira gira Ti ritrovi su te stesso Seduto Con il cazzo in mano Che ti fai le seghe E non è bellissimo Allora dici Cazzo il nofap Mi salverà la vita Ah perfetto Buona serata Grazie mille per tutti i consigli Ricordami come ti chiami Books Marco Books Ciao raga Abbiamo fatto 40 minuti È stato bello Come sempre Vi voglio bene Vi amo Vi scoperei E ci vediamo domani Sempre alle 7 Ok Ciao Bleh Ciao Ciao Ciao